La sezione regionale di controllo per la Campania delibera l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Mocera Inferiore, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio, ai sensi dell'articolo 243,4,3 del decreto legislativo 267 del 2000, con l'osservanza delle prescrizioni esposte in motivazione. Il Presidente Ciro Valentini. Abbiamo dovuto gestire una situazione ai fini della sopravvivenza. Abbiamo alle nostre spalle il grosso del lavoro, abbiamo davanti un'altra parte importantissima del lavoro perché dovremo incidere ancora di più su alcuni assetti comunali. È una giornata storica perché abbiamo raccolto un Comune sull'orlo del dissesto con una situazione finanziaria notoriamente drammatica, non è un'opinione personale, ma quanto attestava la stessa Corte dei Conti e lo stesso Ministero delle Finanze quando abbiamo avviato la manovra di riequilibrio nel 2013, manovra che ci è stata consentita grazie anche a quello che è stato il decreto 35, il decreto Monti, che quindi consentì agli enti locali che volessero rendersi virtuosi, con il loro lavoro ovviamente, di attingere a risorse finanziarie. È un processo che abbiamo avviato in totale solitudine, spesso ricevendo delle critiche ingiuste perché la città doveva vivere e farla vivere era sempre più difficile stante la carenza di risorse finanziarie. Credo che con una soddisfazione equilibrata ma altrettanto forte possiamo dire di avere raggiunto quell'obiettivo, di avere portato la nostra città dopo 25 anni circa da quello che fu un dissesto anch'esso drammatico nell'inizio degli anni 90 e riportata sull'orlo del dissesto, credo che l'abbiamo tirata fuori dalle secche in cui era precipitata con una serie di disservizi, di paralisi, di difficoltà finanziaria, di tributi elevatissimi e di tutta una serie di difficoltà. Oggi possiamo dire che siamo venuti fuori da quel burrone, da quel buco con un lavoro molto forte, molto determinato, paziente che ha tenuto insieme i cocci insomma di una situazione e ovviamente sapendo che quel lavoro non è finito perché non si amministra per piantare la bandiera del proprio orgoglio, si amministra per rendere un servizio alle comunità. Ecco, lei ha detto che bisogna incidere adesso su altri assetti comunali. Bisogna incidere adesso su altri assetti comunali, abbiamo un'idea di quelle che saranno le prescrizioni di accompagnamento che la Corte dei Conti ci darà, che dà a tutti gli enti che vedono approvata la propria manovra finanziaria, però ci riempie di soddisfazione la definizione di quel provvedimento che definisce la congruenza, quindi pienamente accoglibile, pienamente accoglibile la manovra di riequilibrio finanziario pluriennale antidissesto, la voglio battezzare oggi, non più predissesto che il nostro comune ha realizzato, la nostra amministrazione ha portato a casa dell'interesse di tutti i cittadini. Questo non è un tecnicismo, io vorrei sottolinearlo perché può apparire giustamente al cittadino comune tale. La vita di una famiglia si basa sulle risorse, non solo, su due elementi, sull'amore familiare e quello credo che ce lo abbiamo messo, è sulle risorse finanziarie. Le risorse finanziarie non le avevamo, abbiamo utilizzato un meccanismo di governo, abbiamo utilizzato molta virtù, abbiamo risparmiato praticamente su tutto, abbiamo tirato all'osso, abbiamo avuto la sopportazione dei cittadini che hanno capito lo sforzo, dei funzionari e del personale comunale, quasi tutto ha capito lo sforzo e ho soprattutto il ringraziamento alle forze amministrative e consigliari che dall'inizio ad oggi tutte, anche chi oggi non rappresenta più la maggioranza di governo, ma hanno contribuito a questo lavoro e anche a quelli che prima non erano in maggioranza di governo e nell'ultimo mese hanno acceduto a questo sostegno, condividendone le azioni. La sforza di un'amministrazione è sempre uno sforzo collettivo, io ci tengo ad evidenziare questo aspetto, non esistono protagonismi personali, anzi qui se un grazie particolare va dato non è soltanto il grazie che ci rivolgiamo come amministrazione, ma a quei funzionari, penso soprattutto alla dottoressa Bracciale, al vice sindaco Mario Campitelli che hanno svolto in maniera totalmente abnegata il loro lavoro. Noi abbiamo superato il crinale fortunatamente della difficoltà, adesso inizierà una discesa che non si consumerà nello spazio di un anno e cinque mesi da qui alle elezioni, il periodo di lavoro è lungo e non può permettere distrazioni, immaginare che essere usciti da un fallimento consenta di spendere e spandere è folle, quindi certamente non è questo, sia perché il clima generale non lo consente, sia perché nello specifico la situazione di nocere inferiore ancora non lo consente e non dovrebbe consentirlo mai di spendere e spandere perché poi i risultati sono quelli che ci sono stati trasferiti, insomma regalati. Io credo che però possiamo programmare un'azione di maggiore raccolta di risultati, anche se io credo che in questi quattro anni circa, tre anni e mezzo abbondanti, ormai oltre i tre anni e mezzo noi ne abbiamo prodotti, credo che siano sotto gli occhi di tutti, dimostrando una cosa, che si può governare una comunità creando un buon clima cittadino che viene prima dei palazzi, il senso della comunità e soprattutto non sperperando le risorse. Sotto i ponti, noi da sotto i ponti ci siamo usciti.